Il mio punto di vista della moda è che la rivoluzione è molto importante. La ricerca si fa nella storia o magari nei momenti storici della moda, dell'arte, del design. Dunque c'è molto legame anche con l'architettura, con il design, con altre ricerche di volume, di forme, però in relazione del corpo. E così facciamo i primi disegni che i ragazzi fanno in un primo anno, secondo anno, per liberare i stereotipi della moda. E così si sperimentano delle maniche, delle forme, una vita, un altro tipo di gonne, piuttosto un volume. E di là si parte con molto creatività e libertà per fare delle collezioni dopo 3-4 anni, con più maturità. Grazie Linda!